Conoscete Erick e Domini? Erick e Domini! Wow, siamo arrivati, guarda che belli! Ma no, Erick, non siamo ancora arrivati! Questi delfini sono finti, stiamo cercando quelli veri! Allora, intendi questi? Oh, che strani questi delfini, che belli! Wow, guarda questo! Guarda questo! È fatto con pezzi di bambole? No, questi delfini sono fatti con pezzi di rifiuti trovati in mare o sulle spiagge! Wow! Ci sono tantissimi pezzi di bambole diverse! I delfini veri devono essere da quella parte, seguimi! Sì, ti seguo, aspetta, aspetta! Sono da questa parte, wow! Eccoli! Ciao! Ma davvero, guardali, Dominic! Sono bellissimi, vengono a salutarci! Ciao, ragazzi! Guarda! Wow! Sì! Ciao! Ma che bello! Sto parlando con te! Sì! Cosa mi state dicendo? Innanzitutto ci stiamo presentando, ok? Io sono Erick! E tu sei? Blu, blu! 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 Si chiama Blu! Ciao, Blu! Wow! Ciao, piacere! Quanto è bello! Sembra felice di conoscerci! Ciao! Buongiorno ragazzi! Io sono Erick! E io sono Dominic! E chiudiamolo a dirlo che siamo, devi dirlo! Io insieme! Io insieme! Io insieme! E oggi siamo appena arrivati a oltremare! Family Experience Park! A Riccione! E sarà una giornata fantastica! E oggi non siamo soltanto qua per visitare il parco, per divertirci con i delfini, ma oggi faremo una cosa straordinaria! Oggi faremo uno spettacolo con i delfini e con tutti voi, con gli insiemini! Saremo nel palco insieme a loro, canteremo e balleremo insieme! Io sono pronto, tu sei pronta! Ehi, tu sei pronto? Noi ci vediamo tra pochissimo! Siete pronti per lo spettacolo? Sì? Sì! Allora... Sì, ho detto sì! Dominic, guarda! Fantastico! Stiamo arrivando! Non vediamo l'ora! Ci divertiremo tantissimo! Ciao! Arriviamo! Ciao! Ciao! Sono più veloci di noi però, dobbiamo fregarci! Hello! Wow, ciao! Conoscete Areca Dominic? Ciao! Ehi, che domini! Ciao! Ciao! Guardate qua un attimo! Ciao! Ciao! Ci sono le cinque femmine! Grazie! Grazie! Grazie Ehi Buonissimo Ehi Buonissimo 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 Come ho detto Tu hai detto che per blockazione sai tra voi una mi raccett disability si non lo premare E io ho stretto il mio outfit con cula Com'è questa canossa Marina Sai cosa ti dico? Io vado bene così Oh!Anche io vado bene così E voi? Io pazzo bene così 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 Corrido sempre come se la vita fosse un tempo E se il mondo è diverso, creando lo stesso Inizio, vivendo l'universo Grazie Grazie Per fare i miei giornali? Ma sicuri se volete fare un video più novi? Uno, due, tre Viste, ciao E se dovete sapere che oggi stiamo facendo anche un video Quindi ci sarete tutti voi, ci saranno qui, ci saranno noi E voi dovete trovare E diciamo che sarà una giornata quanta E v Heaven網i? Sì Shè, Serick e mi l'ho detto Però è un prestoro, non c'è... E comunque stavo molto otroistrada Sono bruttissimo Woo oo oo Sou volhando stasera Mi mancherai By the day Questa volta Puoi portare chi vuoi Woo oo WooEu Puoi portare chi vuoi Ragazzi adesso stiamo per fare una cosa incredibile, adesso saremo degli addestratori per un giorno Ma ci credete? Eccoci qua, noi delfini Guardate dove siamo, invece i delfini E' incredibile, guardate ragazzi stiamo sul palco, avete visto che è tanti? I delfini sono vicini a voi in quanto non si potrebbero esattivare Guarda che bello Loro sono le addestratrici Gli danno da mangiare Non è che darebbero qualcosa anche a me Ma dai eh Scusa Oh guarda 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 Sta camminando nell'acqua Ma è bellissimo essere qui Stiamo vedendo lo spettacolo dalla parte degli addestratori Siamo qui A bevere delfini insieme a voi E adesso dobbiamo passare da questa passarella qui Dai da minicca attenta Wow guardate ragazzi Ok vai tranquilla Ci sei? Sì Andiamo Adesso passiamo da qua Dobbiamo passare anche da qua Ecco adesso siamo più vicini a voi Guardate quanti siete Guarda dove sono Wow Di là di là di là Arrivo Ti seguo Ciao Come va? Ciao Ti faccio di qua? 5 qui qui 5 Ragazzi ci sono anche io Ciao 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 E ciao Faremo dei segnali Ok Allora proviamo Così Così Eri che fallo anche tu Così Così Ok Anche con l'altra Anche con l'altra Eh non Eh va bene Allora giriamoci ragazzi Questa altra parte No No È meraviglioso Oh sì No rispondo la mia Ho vinto No no Ma che belli E segnali Così Mi raccomando Eric Mi raccomando Vai Arrivano Vai vai No No che bello Ma avete visto Wow Riesci a parlare con i delfini No sì Basta fare così E così E poi Andiamo Andiamo Seguiamo te Ciao Ciao Vai attento a non cadere Stavo cadendo poco fa E adesso Torniamo dall'altra parte Questo posto è bellissimo Arriviamo E adesso Vediamo il passaggio di Dominic Sul ponticello Ed eccoci di nuovo qui Guardate come si divertono Hai visto Quasi pesci E' come me Ed è uguale a gara Guarda 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 Ciao bello Sara quanto stai Te l'hai poi stato Tutto Hai ancora fame? Che bello Bravo amore Bravo amore Guarda 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 Ok vai 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 Guarda qui In piano Eh sì 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 Adesso tocca a te Ti va in scena Osserviamo Sto per fare qualcosa Questa farà Questa farà Minazzi lo vedete E' quell'ombra lì sotto Oh Hai visto Questa Wow Si divertono tantissimo Ci stiamo divertendo Tutti insieme Nooo Vuoi ballare anche tu? Vai Oh ti hanno staccato la musica Quanto hai rotto la canzone Loro sono più bravi a ballare Significa che balleremo tra poco 58? 58 E' vero e proprio E' vero e proprio Per lei non ci vuole un applauso Per lei ci vuole Una stella in oveca Il suo nome è Che è? Si chiama Kevin Che è sdraiata Guarda che bella Che è felice tutta Senta Assurdo l'altra In una parola Le è Luz La più giovane del gruppo Guarda che bella Lei è la più piccola La più giovane Ma quanto sei bella Sei bellissima Balli anche tu? Buona ballo Vai vai di là Avete visto come ballano bene? Ballano meglio di te Ma dai balliamo insieme benissimo E adesso senti questa musica romantica? Cosa succederà adesso? Guarda Mi stanno mutando insieme Guarda che bella Vorrei essere anch'io lì con loro Ragazzi è una cosa meravigliosa È il delfino che la finge L'ha fatta salire qui Voglio imparare anch'io a fare tutte queste cose Sembra così bello Guarda si sta guardando Che è un momento romantico È un momento emozionante Guarda Guarda che stia parlando con loro Ora si vuole un animale Vai di là Orride L'hai sentito? Hai che parlato Adesso tocca a loro Ragazzi essere qui è veramente emozionante è incredibile come riesce a parlare bene con loro oh oh, momento pappa uno puntino durante lo spettacolo un applauso è fortissimo e insieme ai figli si erano pronti? si erano pronti? ma adesso mi ha fatto una posiziana 1,2,3,4 Ho pittoria, ho milione di telegiove che ti fanno fare bene Ho pittoria, voglio per il tuo cuore Ho pittoria, ho milione di telegiove che ti fanno fare bene Grazie! Questo è il loro naso E loro da lì parlano quindi quando voi sentite i suoni in realtà escono proprio dallo sfiatatoio che bello lo senti guarda bravo Goli poi si chiama Golia le orecchie sono questi due forellini invisibili cioè invisibili molto piccoli sono le orecchie poi qui dentro quest'area si chiama melone e dentro hanno il sonar da dove possono vedere anche quando nel mare c'è tutto scuro poi vi faccio vedere il loro ventre che come potete vedere è chiaro è bianco invece il dorso è più scuro questo perché se un predatore li guarda da sotto vede bianco come il cielo mentre se un predatore lo guarda dall'alto vede la scheda grigia che si mette con il fondo sappioso wow non lo sapevamo al centro della pancia come noi l'ombelico e più in basso le fessure degli organi genitali questo è un maschio e quindi si vedranno i due forellini leggermente separati gli uni dagli altri mentre nelle femmine si vede una fessura quasi unita wow da questa posizione noi possiamo anche prelevare il sangue perché loro fanno tutto a livello volontario sono bravissimi e fanno tutto fanno prelievo del sangue wow guarda che bello bravissimo Golis grazie bravo amore buon appetito ti sei divertito con Eric e Dominic? ma guarda Golis sei bellissimo grazie ciao è contentissimo e invece lui è Ulisse e adesso ce ne andiamo in giro per il parco con la nostra auto ciao grazie grazie ciao 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 ragazzi buon appetito buon appetito ciao mi hanno promesso che mi faranno mangiare mangio anche io tra poco ciao guardate questo è l'ingresso del parco ci siamo noi guarda oh si guarda e dopo un bel pranzetto torniamo nel parco e non vediamo l'ora di incontrarvi tutti siamo pronti? ciao 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 signore e signori la coppia che vuoi spazzire il tubo i più avanti dei piccini dai più grandi entrano Eric e Dominic insieme ciao 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 Elisse ciao Dani ciao Delfini ciao scimpanze eccolo qua noi abbiamo anche la telecamera però si stai registrando siamo nel video? volevo ricordare che quelli belli sono di là eh ok aspettate ciao 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 facciamo 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 adesso dove andiamo che facciamo dai e ancora adesso sai che dobbiamo farli in iguagra dite ok dite ok dite ormai dite a noi dite sulle strade perfette andiamo di scuola si intesse sembra una grande rapina adesso no ah no no passiamo a prendere il portafoglio per un piccolo contributo va bene va no allora sulle sulle mani sulle mani sulle mani io a tre vai riporto io sono durro vai rotto uno due tre hai cantato? ma davvero? ma quando devi cantare lo sai che cosa fai? mi fai stare con te piccoli su le mani giù le mani su le mani giù le mani giù le mani fregati tutti eric sei tu l'ho preso l'ho preso scappa che hai fatto? che hai preso? questo questo qui lo portiamo a casa wow il nostro cartellone ma è gigantesco si è bellissimo ma da dove l'hai rubato? all'entrata di oltremare c'erano questi e adesso non gli servono più perché la giornata ormai è finita quindi posso portarmelo a casa andiamo a caricarlo